questo è il suo solo migliore, per quanto riguarda il nostro video? sono gli altri dove dovessi vedere la loroably sai che la mia è la mia l'ha chiamato l'ho cacciato io l'ho cacciato e bentono lì su un nuovo episodio sul nuovo video, guardate sto guadagnando soldi mentre sto fermo a me che potenza comunque c'è e bentornati su un nuovo episodio, su un nuovo video, come sempre lasciate un like per supportare il mio canale oggi ti troviamo su to the moon un gioco che praticamente dove praticamente devi ve lo faccio vedere intanto ti suggetti il tasto del like, dei commenti, degli iscritti ma soprattutto la campanellina e se ci troviamo sul cellulare comunque guardate allora praticamente bisogna tra l'altro sono al live diciamo che è un po' una droga questo giochino perchè praticamente sono già al livello 99 questo è il livello 99 che sto facendo e volevo fare con boi il 100 e praticamente in questo gioco appunto devi controllare questa questo personaggio per fare stonks scusate ma è la maledetta pubblicità e dicevo questo è letteralmente il gioco del stonks not stonks e ragazzi ora farò il livello 100 con voi questa è in realtà lo scopo aiuto di questo video è praticamente ci sono questi per due per tre cioè costantemente si alzano i soldi però te li devi anche prendere i per che ti moltiplicano tipo questo ti moltiplicano i soldi che ho avuto per tre io ho avuto 3.000 euro ahhh se non dovevo registrare la stavo facendo offline sto gioco perchè ma c'è maledetta pubblicità quanto la odio comunque abbiamo fatto il livello 100 insieme e vai e questo gioco praticamente c'è è uno di quei basta dire è un gioco per cellulare e capite tutto è un gioco per cellulare praticamente fatto così quando stai chillando a letto e praticamente devi far muovere all'inizio questo però poi ci sono molti personaggi ecco e praticamente devi far muovere questo verso appunto tra l'altro ho migliorato quello all'inizio quello che dava 2.000 era quello che era 2.000 dava 100 l'upload update fino al massimo proprio stavo provando a cliccare più non funzionava proprio update al massimo più soldi possibile 18.448.000 comunque sì ragazzi cioè è questo il gioco non altro utilizzo comunque io penso che spero che questo video vi sia piaciuto ma penso che non vi sia piaciuto perché è abbastanza noioso però pazienza perché io penso di concludere questo episodio e noi ci vediamo con un prossimo video probabilmente praticamente ora ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti